Orrore a Reed Hook Lovecraft Esistono sacramenti del male come del bene, e io credo che ci muoviamo in un mondo sconosciuto, dove sono ombre, anfratti misteriosi, ed esseri che vivono nel crepuscolo. Ed è possibile che un giorno l'uomo ripercorra all'indietro il cammino dell'evoluzione, ed è mia convinzione che esistano segreti spaventosi non ancora dimenticati. Arthur Machen Molte settimane fa, a un angolo della strada del villaggio di Pascog, nel Rhode Island, un viandante alto, robusto e di sana costituzione, suscitò mille congetture, con un suo strano comportamento. A quanto pare discendeva la collina dalla strada di Chepachet, e dopo aver avvistato il paese, aveva piegato a sinistra, nell'arteria principale di Pascog, dove gruppi di modesti edifici danno quasi l'impressione di trovarsi in una città. A questo punto, e senza ragione apparente, l'uomo cominciò a comportarsi in modo bizzarro. Dopo aver guardato per qualche secondo gli edifici più alti, esplose in una serie di urla isteriche e terrificanti, poi si diede a correre alla disperata. All'incrocio successivo cadde, e fu aiutato a rimettersi in piedi da alcuni passanti, che cercarono, come meglio poterono, di spolverargli i vestiti. Lo sconosciuto era cosciente, non ferito, e si era ormai ripreso dal misterioso attacco. Mormorò qualche scusa a proposito di un esaurimento, e con gli occhi bassi si avviò di nuovo verso la strada di Chepachet, allontanandosi senza guardarsi indietro. Strano incidente, per un uomo robusto, dall'aspetto florido e normale come lui. E la curiosità aumentò, quando un testimone lo riconobbe per il pensionante di una nota fattoria alla periferia di Chepachet. L'uomo, come si venne poi a sapere, era un poliziotto di New York, di nome Thomas F. Malone, ora in congetto per malattia, dopo che un caso già difficile si era trasformato, per una serie di circostanze in tragedia, vera e propria. Nel corso di una retata alla quale Malone aveva partecipato, alcuni edifici di mattoni erano crollati, provocando la morte di numerosi prigionieri e colleghi della gente, il quale ne era rimasto sconvolto. Come risultato, nutriva un autentico senso d'orrore, per qualunque costruzione che gli ricordasse, sia pur lontanamente, quella in cui era avvenuta la disgrazia, e gli specialisti di malattie mentali gli avevano consigliato di tenersene lontano per un periodo indeterminato. Un medico della polizia, che aveva parenti a Chepachet, aveva proposto l'antico villaggio coloniale come il luogo ideale per la convalescenza di Malone. E lì, e lì il malato si era recato, con la promessa di non avventurarsi nel centro di villaggi più grandi, dove esistevano edifici di mattoni. Queste, infatti, erano le direttive impartite dallo specialista di Wunso Kett, con cui il polizzotto si teneva in contatto. La passeggiata a Pascog, in cerca di riviste, era stato un errore, che il paziente aveva pagato con terrore, qualche ammaccatura e un'umiliazione. Questo è quanto si riuscì a sapere a Chepachet e Pascog, e a questo si erano fermati i più noti luminari. La verità è che in un primo momento il polizzotto aveva confessato ai suoi medici molto di più, ma aveva smesso di parlare quando si era accorto che le sue parole venivano accolte con assoluta incredulità. E da quel momento si era preoccupato solo della sua pace e non aveva protestato quando le autorità erano giunte alla conclusione che il crollo di certi squalli di edifici nel settore di Rithock a Brooklyn e la morte di numerosi colleghi avessero alterato il suo equilibrio mentale. Tutti concordavano che Malone, nel tentativo di fare pulizia in quel vero e proprio covo di disordini e violenze, avesse lavorato troppo. Il caso aveva aspetti abbastanza sinistri e la disgrazia finale era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Questa semplice spiegazione era accettabile da chiunque, ma siccome Malone non era un uomo semplice, si era reso conto che insistere sarebbe stato inutile. Spiegare a gente priva di immaginazione che lui si era trovato di fronte all'orrore di qualcosa che trascendeva ogni umana concezione, l'orrore di edifici isolati, città intere le cui fondamenti affondavano nella corruzione di malifizi giuntissino a noi da mondi antichissimi, sarebbe equivalso a farsi rinchiudere in una cella imbottita invece che assegnare un periodo di riposo in campagna. E lui, nonostante la sua apertura mentale, era un uomo di buon senso. Aveva la facoltà tipicamente celtica di vedere cose remote e portentose, ma anche la logica di chi si rende conto che quello che ha da dire non convincerebbe nessuno. Era questo amalgama che l'aveva portato così lontano nei 42 anni della sua vita. In fondo era nato a Dublino, dove aveva frequentato l'università e la casa dei suoi era una villa georgiana, non lontano da Phoenix Park. Quando passava in rassegna le cose che aveva visto, sentito e appreso, Malone preferiva ormai tenerle per sé. Per colpa di quegli avvenimenti, un coraggioso nemico del crimine si era ridotto a un povero nevrotico e i casamenti dei bassifondi o una folla di facce scure di forestieri avevano finito con l'acquistare per lui un significato terrificante. Non era la prima volta che le sue motivazioni erano destinate a rimanere senza spiegazione e del resto non era un mistero il suo volontario inabissarsi nei quartieri bassi di New York, popolati da mille razze diverse. Come poteva parlare alla gente qualunque di antichi malefici e di fatti grotteschi, fantastici, che i suoi occhi sensibili avevano individuato nel diabolico calderone in cui gli eredi di ere maledette continuavano a distillare veleni e a perpetuare orrori inconcepibili. In quella rumorosa fucina di apparente copidigia e autentica malvagità, Malone aveva scorto la fiamma verde della stregoneria e quando i suoi amici new yorkiesi avevano riso del suo tentativo di mettersi a fare il poliziotto si era limitato a sorridere. Erano staticinici e sarcastici, avevano messo alla berlina la sua fantastica ricerca di arcani e di misteri. A New York, dicevano, ormai non c'è che bassezza e volgarità. Uno di essi aveva scommesso una forte somma che Malone, nonostante le ottime cose pubblicate sulla Dublin Review, non sarebbe mai riuscito a scrivere un racconto interessante sulla malavita di New York e ora guardandosi alle spalle egli si accorgeva che una sorta di ironia cosmica aveva giustificato le parole del profeta confutandone tuttavia il senso fatuo e impertinente. L'orrore, così come gli era apparso alla fine, non poteva costruire materia di un racconto proprio perché, come dice l'autore tedesco citato da Poe, Es lasse sich nicht lesen. Esso si rifiuta di essere letto. Per Malone, Resistenza aveva sempre celato un senso latente di mistero. Da giovane aveva sentito la bellezza nascosta e il piacere delle cose. Era stato un poeta. Poi la povertà, il dolore e l'esilio avevano rivolto il suo sguardo in altre e più oscure direzioni e aveva provato un brivido all'intuizione del male nel mondo. La vita quotidiana era diventata per lui una fantasmagoria di macabre ricerche nel regno delle ombre che a volte gli pareva invitante e raffinato come nei più bei disegni di Bredsley dove la corruzione si nasconde dietro un velo. A volte sprigionava terrore dalle forme e dagli oggetti più familiari come nel lavoro meno banale di Gustave Doré. Malone considerava un bene che le persone intelligenti si burlassero dei misteri di quel mondo perché se gli intelletti migliori fossero entrati in contatto con i segreti tramandati dai culti più antichi e dei generi l'umanità sarebbe stata travolta e l'integrità dell'universo minacciata. Erano riflessioni morbose ma non se ne rendeva conto ma bilanciate dalla pura logica e da un certo senso dell'umorismo. Per quanto lo riguardava egli si limitava a fare in modo che ciò che sentiva rimanesse al livello di visione proibita e recepita solo a metà. Qualcosa con cui giocare e divertirsi. La minaccia della follia si era profilata solo quando il dovere lo aveva costretto a fronteggiare una serie di rivelazioni troppo precise e insidiose perché riuscisse a sfuggirvi. Prestava servizio da qualche tempo alla stazione di polizia di Butler Street a Brooklyn quando la faccenda di Reed Hook attirò per la prima volta la sua attenzione. Reed Hook è in un labirinto di squallore e immigrazione nei pressi del vecchio fronte del porto di faccia a Governos Island. Strade sporche risalgono la collina e giungono al quartiere di poco più elevato dove Clinton Street e Kurt Street conducono al palazzo municipale di zona. Le case sono per la maggior parte di mattoni e risalgono al primo quarto o alla metà del XIX secolo. Alcuni vicoli e le strettoie più scure hanno quel fascino quel sapore d'antico che le letture convenzionali ci spingono a definire di Kenziano. La popolazione è un groviglio inestricabile un enigma siriani, spagnoli, italiani e negri vivono gli uni sugli altri con frange americane o scandinave che prosperano a non molta distanza. È una bavere di rumori e di sporcizia e grida di ogni genere fanno da contrapunto alle onde che lambiscono i pontili sudici e al mostruoso concerto d'organo delle sirene del porto. Molto tempo fa il quartiere offriva tutto un altro quadro con le strade più basse frequentate da marinai dagli occhi azzurri e il fianco della collina cinto di case di un certo gusto e una certa ricchezza. Tracce di questa antica felicità si trovano nella forma regolare degli edifici, nelle chiesette aggraziate che spuntano qua e là, nelle testimonianze dell'arte e della cultura originaria che si riescono tuttora a individuare. Una scalinata consunta, una porta assegnata delle intemperie, un paio di colonne o pilastri mangiati dai vermi, un fazzoletto di terra, un tempo verde con un corrimano di ferro arrugginito. Le case sono raggruppate in isolati e ogni tanto spunta un attico con molte finestre a ricordare i giorni in cui le dimore degli ufficiali e dei proprietari di navi sorgevano in fronte al mare. Da quel groviglio di decadenza materiale e morale le bestemmie pronunciate in mille dialetti aggrediscono il cielo. Orde di avventori avanzano barcollando per le strade, cantano nelle vie secondarie e in quelle principali, mani furtive spengono all'improvviso una lampada o tirano le tende alle finestre. Facce scure e viziose scompaiono dai loro posti d'osservazione quando un visitatore si avvicina. La polizia non ha nessuna speranza di far rispettare l'ordine o di ottenere migliori condizioni di vita e il suo sforzo consiste nel rigere una sorta di barriera che protegga il mondo esterno dal contagio. Quando arriva una pattuglia cade su tutto un silenzio minaccioso e quelli che ogni tanto vengono arrestati non si mostrano affatto ciabieri. I reati variano come la gamma dei dialetti e coprono un arco che va dal contrabbando di Rum all'immigrazione clandestina e attraverso vari gradi di criminalità giungono fino all'omicidio e alla mutilazione nelle forme più ripugnanti. Che i reati accertati non siano più numerosi di tanto non depone a favore della comunità a meno che l'arte di fare del male di nascosto sia un fatto meritorio. A Reed Hook entra più gente di quanta ne esce o almeno di quanta ne esca per via di terra e quelli che hanno maggiori probabilità di cavarsela sono i soliti ceffi taciturni. In questo stato di cose Malone percepì il disgustoso sentore di pratiche più antiche di quelle che i cittadini probi i preti e i filantropi considerano comunemente peccaminose. Sapeva come può sapere solo chi possiede una viva immaginazione unità conoscenze scientifiche che chi vive al di fuori della legge tende a ripetere in modo arcano i più tenebrosi comportamenti istintivi della vita barbara e primitiva e questo sia nella vita quotidiana sia nei veri e propri rituali di cui si fa portatore. Più volte aveva notato col brivido dell'antropologo i canti e le inquietanti processioni di giovani con gli occhi rovinati dalla cataratta e il viso butterato dal vaiolo che cercavano la via di casa nelle ore piccole del mattino. Si vedevano gruppi di questi giovani continuamente talvolta agli angoli delle strade dove montavano di guardia con un sorriso strafottente talvolta sulla soglia delle case dove pizzicavano misteriosi strumenti musicali ora in preda allo stupore addormentati ora immersi in dialoghi indecenti intorno ai tavoli delle caffetterie nei pressi del palazzo municipale altre volte confabulavano intorno a un taxi scalcinato e parcheggiato nei pressi di case curve e in rovina con le imposte accuratamente chiuse Malone era affascinato più di quanto riuscisse a confessare ai colleghi della polizia perché in essi gli sembrava discorgere una segreta e mostruosa continuità un modello misterioso malvagio antico che andava infinitamente al di là o al di sotto delle sordide informazioni sui covi abitudini e misfatti raccolte dalle forze dell'ordine quegli stranieri pensava dovevano essere gli eredi di una terrificante tradizione primordiale coloro che permettevano la sopravvivenza di culti degeneri ma antichissimi più vecchi della stessa umanità e di cui qualche scheggia si tramandava ancora c'era in loro una coerenza e una volontà che faceva pensare proprio questo e un singolare sospetto di ordine sotto lo squallido disordine apparente ma non aveva letto in vano le streghe nell'Europa occidentale di Margaret Murray e sapeva che fino ad anni recenti era sopravvissuto fra i cittadini e presso le comunità separate uno spaventoso sistema di assemblee orgiastiche e clandestine che erano la manifestazione di religioni oscure più antiche del mondo europeo e che la tradizione popolare definiva messe nere o sabba delle streghe che le vestigia diaboliche del mondo magico asiatico e dei culti della fertilità non fossero completamente scomparse Malone dubitava affatto a volte si domandava quanto più antiche e quanto più nere dei peggiori racconti potessero essere in realtà fu il caso di Robert Seidam a portare Malone nel cuore degli avvenimenti di Reed Hook Seidam un letterato solitario di antica famiglia olandese possedeva quel po' che bastava a vivere e abitava da solo non ben conservata che suo nonno aveva costruito a Flatbush quando il villaggio era poco più che un gradevole gruppetto di case coloniali intorno alla chiesa riformata la chiesa aveva un campanile a guzzo e pareti coperte d'edera e un cancello di ferro proteggeva il cimitero olandese nella casa del recluso che sorgeva in mezzo a un parco d'alberi antichi lungo la Martens Street Seidam aveva letto e fantasticato per circa 60 anni tranne il periodo che risaliva una generazione prima e in cui era partito per il vecchio mondo rimanendoci otto anni non poteva permettersi servitori e pochi erano i visitatori ammessi alla sua perfetta reclusione evitava le amicizie e riceveva i rari conoscenti in una delle tre stanze a pian terreno che manteneva in ordine si trattava di una vasta biblioteca dal soffitto alto e le pareti tapezzate di tomi arcaici sciupati vagamente repellenti la crescita della città e il suo assorbimento finale nel distretto di Brooklyn non significava niente per lui e a sua volta Seidam aveva finito per essere ignorato dalla città i vecchi lo indicavano per le strade ma per la maggior parte della nuova popolazione era soltanto un vecchio strano e corpulento i cui capelli bianchi spettinati la barba mal rasata i vestiti neri elisi e il bastone dal pomodoro gli facevano meritare un'occhiata incuriosita e niente di più Malone non lo conobbe di persona finché il dovere non lo costrinse a occuparsi del caso ma indirettamente aveva saputo che era un'autorità in fatto di superstizioni medievali e una volta si era prefisso di cercare un libriccino esaurito di cui Seidam era l'autore che si occupava della cabala e della leggenda di Faust un amico lo conosceva addirittura a memoria nel caso Seidam scoppiò quando i suoi unici e lontani parenti tentarono di farlo interdire dal tribunale agli occhi della gente l'azione sembrò precipitosa ma in realtà fu intrapresa dopo lunghe osservazioni e dolorose discussioni c'erano stati nel vecchio misteriosi cambiamenti di abitudini e di pronuncia aveva cominciato a fare stravaganti profezie su meraviglie che si sarebbero verificate tra poco e si era dato a frequentare i peggiori ambienti di Brooklyn con gli anni si era fatto sempre più trascurato e ora andava in giro come un mendicante vero e proprio gli amici lo vedevano occasionalmente quasi con vergogna nelle stazioni della metropolitana o sulle panchine intorno al palazzo municipale di zona dove conversava con stranieri bruni e dall'aspetto feroce quando parlava era per cianzare di poteri illimitati che ormai quasi gli appartenevano e per ripetere con un ghigno di soddisfazione parole e nomi religiosi come sefirò asmodeo e samaele l'azione legale dimostrò che il vecchio dilapidava il suo denaro e aveva quasi esaurito le proprie risorse nell'acquisto di misteriosi volumi ordinati a Londra e a Parigi e nel mantenimento di uno squallido seminterrato nel distretto di Rithook dove passava quasi tutte le sere e riceveva strane delegazioni di fuorilegze e di stranieri qui a quanto pare ufficiava un misterioso cerimoniale che le imposte verdi tenevano al riparo da occhi indiscreti investigatori assegnati al caso riferiscono che nella casa durante i riti notturni si udivano grida canti e strascico di piedi e affermano che nonostante la relativa frequenza di orge e raduni misteriosi in una zona malfamata come Rithook il piacere e l'abbandono che si insinuavano in quei gemiti mettevano i brividi quando si arrivò alla sentenza Saedam riuscì a conservare la propria libertà davanti al giudice fu ragionevole e urbano ammettendo le stranezze di comportamento e linguaggio che gli venivano imputate e attribuendole a eccessivo studio e ricerca era impegnato disse nell'indasine di certi aspetti delle antiche tradizioni europee che richiedevano il più stretto contatto con i gruppi di stranieri i loro canti e danze folcloriche l'idea che una setta o società segreta volesse approfittare di lui come suggerivano i parenti non era neppure da prendere in considerazione e dimostrava quanto fosse limitata la loro comprensione del suo lavoro queste ragionevoli spiegazioni gli permisero di uscire dal tribunale indisturbato e gli investigatori pagati dai Seidam dai Corleer e dai Van Brunt furono ritirati nello scorno generale è a questo punto che un'alleanza tra gli ispettori federali e la polizia quindi Malone venne costituita per risolvere il caso le forze dell'ordine avevano seguito con interesse l'azione dei Seidam e più di una volta erano state interpellate per aiutare i detective privati durante questo lavoro si era scoperto che i nuovi amici di Seidam erano tra i peggiori criminali di Reed Hook e che almeno un terzo di loro erano conosciuti per recidiva nei reati di furto disturbo della quieta e importazioni di immigrati clandestini non è esagerato dire che la cerchia del vecchio studioso coincidesse con le peggiori organizzazioni di delinquenti specializzati nel portare a New York i rifiuti dell'Asia che a Ellis Island erano stati saggiamente respinti nelle strade brulicanti di criminali come Parker Place che in seguito ha cambiato nome e in cui sorgeva il seminterrato di Seidam si era formata una colonia di individui inclassificabili con gli occhi a mandorle e che si serviva dell'alfabeto arabo ma che erano fermamente respinti dai siriani stabilitisi nei dintorni di Atlantic Avenue sarebbe stato facile espellerli per mancanza di visto ma la legge è lenta a muoversi e non conviene disturbare Reed Hook a meno che non accada qualcosa di eclatante gli individui di cui si è detto frequentavano una chiesa di pietra di roccata che il mercoledì veniva usata come dancing e che innalzava i suoi bastioni gotici nella parte più malfamata del porto nominalmente era una chiesa cattolica ma tutti i preti di Brooklyn le negavano ogni diritto di autenticità i polizotti quando sentivano i suoni che ne uscivano di notte concordavano con loro ma non fantasticava di un terribile organo che vibrava sottoterra quando la chiesa era vuota e non illuminata mentre tutti gli osservatori temevano le urla e il battito di tamburi che accompagnavano i servizi ufficiali Saedem interrogato rispose che il rituale doveva essere una sopravvivenza di cristianesimo nestoriano mistuò una punta di sciamanesimo del Tibet la maggior parte dei fedeli secondo le sue ipotesi erano un ceppo mongoloide e provenivano dal Kurdistan o da una regione vicina e Malon non aveva potuto fare a meno di ricordare che il Kurdistan è la terra degli Yezidi ultimi discendenti degli adoratori del diavolo persiani comunque stessero le cose la indagine sul caso Saedem restero chiaro che immigrati illegali riempivano Reed Hook in numero crescente e che entravano in paese grazie a una rete marittima che l'ufficio immigrazione e la polizia del porto non riuscivano a identificare da Parker Place si diffondevano per tutta la collina e venivano ricevuti fraternamente dagli abitanti assortiti del quartiere le figure tozze dai caratteristici lineamenti orientali grottescamente abbigliate all'americana erano sempre più numerose fra i fannulloni e i gangster che bazzicavano la zona del palazzo municipale tanto che alla fine si decise di contarli accertare la provenienza dei loro fondi e la natura delle loro occupazioni e se possibile consegnarli alle competenti autorità dell'ufficio immigrazione fu questo il compito che Malone si vide assegnare dalla polizia federale e da quella della città decise ad agire ad accordo e non appena si fu avventurato nelle vie di Reed Hook capì di trovarsi sull'orlo di terrori sconosciuti e che il vecchio e disordinato Robert Seidem era l'avversario da affrontare i metodi della polizia sono molti e ingegnosi grazie a una serie di passeggiate fatte senza dare nell'occhio di conversazioni casuali di opportune offerte di liquore e interrogatori dei prigionieri spaventati Malone apprese una serie di fatti isolati sul movimento che si era fatto così minaccioso i clandestini erano effettivamente curdi ma parlavano un dialetto oscuro e ignoto ai filologi quelli che lavoravano facevano gli scaricatori di porto o i venditori ambulanti anche se a volte servivano nei ristoranti greci o vendevano giornali nelle edicole d'angolo la maggior parte tuttavia non aveva mezzi visibili di sostentamento ed era senz'altro dedita ad attività illegali di cui il contrabbando e la vendita clandestina di alcolici erano le meno ignominiose erano arrivati a bordo di normali vapori probabilmente come clandestini e avevano raggiunto il porto nelle notti senza luna a bordo di barche aremi che partivano da un certo molo e seguivano un canale nascosto fino a uno specchio d'acqua sotterraneo sotto le fondamenta di una casa Malone non era riuscito a identificare né il molo né il canale e neppure la casa perché i ricordi dei suoi informatori erano confusi e il modo in cui parlavano andava oltre le capacità del miglior interprete in definitiva non era riuscito a sapere per quale ragione venissero importati i prigionieri erano reticenti sul luogo da cui erano venuti e stavano ben attenti a non lasciarsi sfuggire da chi fossero stati organizzati e guidati quando veniva chiesta la ragione della loro presenza si lasciavano prendere dal panico i gangster di altre razze erano ugualmente taciturni e tutto quello che si riuscì a mettere insieme fu che una specie di dio gran sacerdote aveva promesso loro poteri straordinari glorie soprannaturali e il dominio di una terra straniera tanto i nuovi venuti che i criminali incalliti del porto frequentavano regolarmente i raduni notturni di Seidem e la polizia scoprì che l'ex recluso aveva affittato numerosi appartamenti per alloggiare gli ospiti che conoscevano la parola d'ordine alla fine occupavano interi caseggiati e Seidem dava asilo personalmente a una parte dei suoi strani amici ora trascorreva poco tempo nella casa di Fredbush in cui andava soltanto per prendere o posare libri e la sua espressione per tacere i suoi modi erano arrivati al massimo dell'eccentricità Malone cercò di parlare per due volte col vecchio olandese e tutte e due le volte ne fu respinto Seidem affermò di non sapere niente di misteriosi complotti e di ignorare come i kurdi fossero entrati nel paese o quale fosse il loro scopo il suo unico obiettivo era studiare senza essere disturbato il folclore di tutti gli immigrati del distretto e di questo la polizia non aveva diritto di occuparsi Malone dichiarò a Seidem la sua ammirazione per il vecchio libretto sulla cabala e su altri miti ma la rendevolezza del vecchio fu solo momentanea era chiaro che l'altro era un intruso e Seidem l'allontanò senza mezzi termini Malone disgustato si rivolse ad altre fonti di informazione che cosa avrebbe scoperto se avesse potuto lavorare al caso con continuità non lo sapremo mai un banale conflitto tra le autorità federali e la polizia cittadina bloccò le indagini per parecchi mesi durante i quali il detective fu impegnato in altri incarichi Malone tuttavia non perse mai il suo interesse per il caso e continuò a stupirsi per quello che accadeva a Robert Seidem proprio al tempo in cui un'ondata di rapimenti e disparizioni gettava nella costernazione la città di New York lo sciatto studioso ebbe una metanorfosi straordinaria e assurda un giorno fu visto nei pressi del palazzo municipale con il viso ben rasato i capelli tagliati e un abito immacolato e di buona fattura e da allora in poi non passo giorno che non venisse notato in lui qualche misterioso cambiamento la sua nuova ricercatezza non subì inclinatura e ad essa si unirono un'aria sempre più vivace e una parlantina che era vera e propria eloquenza a poco a poco tutto questo fece passare in secondo ordine l'obesità che sempre lo aveva deformato gli si dava meno dei suoi anni e aveva acquistato un'elasticità nel camminare e una scioltezza di movimenti che ben si addicevano al nuovo aspetto i capelli si erano fatti più scuri e in modo così naturale che non sembrava di poterlo attribuire a una tintura col passare dei mesi prese a vestire in modo sempre meno tradizionale e quando rinnovò e ridipinse la casa di Fred Bash stupì persino ai nuovi amici organizzò quindi una serie di ricevimenti invitando tutti i conoscenti che riusciva a ricordare e riservò un particolare benvenuto ai parenti che avevano cercato di farlo interdire ma che ora aveva completamente perdonato alcuni ci andarono per curiosità altri per dovere ma tutti furono favorevolmente impressionati dalla cortesia e dalla gentilezza dell'ex recluso Seidam affermò di aver compiuto gran parte del proprio lavoro e avendo appena ereditato della proprietà da un amico europeo di cui quasi non si ricordava più avrebbe trascorso i suoi ultimi anni in una specie di seconda giovinezza ressa possibile dalla facilità di mezzi dalle cure e dalla dieta in cui si era impegnato si faceva vedere sempre meno a Reed Hook e sempre più nella società a cui apparteneva per nascita la polizia notò che i gangster avevano la tendenza a congregarsi nella vecchia chiesa di pietra adibita dancing invece che nel seminterrato di Parker Place benché quest'ultimo e gli altri che Seidam aveva affittato continuassero a brulicare di elementi sospetti poi accaddero due fatti che sebbene distanziati nel tempo agli occhi di Malone assunsero grande importanza uno fu un tranquillo annuncio pubblicato dal Eagle in cui si partecipava il fidanzamento di Robert Seidam con la signorina Cornelia Gerritsen di Byside giovane donna di eccellente posizione e lontana parente dell'anziano signore l'altro fu un'incursione della polizia nella vecchia chiesa adibita a sala da ballo dopo che qualcuno aveva dichiarato di aver visto la faccia di un bambino rapito dietro una finestra del seminterrato Malone partecipò all'incursione e studiò attentamente il luogo ma non fu trovato niente anzi l'edificio era completamente deserto il sensibile irlandese tuttavia si rese conto che c'era qualcosa che non andava la chiesa era ornata da rozzi pannelli dipinti che non gli piacquero affatto e in cui i volti di personaggi sacri erano atteggiati in espressioni mondane o sardoniche a volte quegli stessi personaggi erano raffigurati nell'atto di prendersi libertà che avrebbero offeso persino il senso di decoro di un laico un'altra cosa che Malone non gradì affatto fu l'iscrizione in greco sulla parete che sovrastava il pulpito si trattava di un antico incantesimo in cui si era imbattuto una volta a Dublino quando frequentavo l'università e che tradotto letteralmente significava o amico compagno della notte tu che ti rallegri dell'abbaiare dei cani e degli spargimenti di sangue tu che cammini fra le ombre in mezzo alle tombe che brami sangue porti terrore ai mortali gorgo mormo l'una dalle mille facce accetta con favore i nostri sacrifici ma l'onra brividì ricordò le profonde note d'organo che gli era parso di sentire nel sottosuolo di notte quando sorvegliava la chiesa vicino all'altare c'era un bacino di metallo che lo fece trasalire perché il bordo era arrugginito e comunque chiazzato di bruno e le sue narici avvertirono un odore nauseabondo proprio lì vicino il ricordo dell'organo lo perseguitava e Malone ispezionò il seminterrato con particolare attenzione prima di andare via era un posto odioso ma le icone e l'iscrizione sul muro potevano essere il prodotto di un gruppo di ignoranti e niente di più all'epoca del matrimonio di Saedam i rapimenti di bambini erano diventati uno scandalo pubblico una vera e propria epidemia gran parte delle vittime erano figli delle classi più umili ma il numero sempre maggiore di sparizioni aveva provocato risentimento generale i giornali chiedevano che la polizia intervenisse e il distretto di Butler Street aveva mandato i suoi uomini a Reed Hook per trovare indizi fare scoperte e arrivare ai criminali Malone era contento di essere di nuovo in caccia e partecipò con soddisfazione a un'incursione in uno degli appartamenti affittati da Saedam in Parker Place non fu trovato nessun bambino rapito nonostante che l'agente del luogo avesse riferito più volte di aver sentito pianti e urla ma i dipinti e le rotte iscrizioni trovate nelle stanze e il primitivo laboratorio chimico allestito in soffitta convinsero il detective di essere sulle tracce di qualcosa di tremendo i dipinti erano spaventosi mostri di ogni forma e dimensione parodie della figura umana che non si possono descrivere adeguatamente le scritte in lettere rosse variavano dall'arabo al greco dall'ebraico al latino ed erano composte nei rispettivi alfabeti Malone non riuscì a decifrare granché ma da quello che riuscì a capire si trattava di formule magiche e cabalistiche un motto che ricorreva di frequente in una sorta di greco ellenistico ebraicizzato adombrava la più tremenda invocazione di demoni della decadenza alessandrina circoli e pentagrammi incombivano ad ogni parte rivelando le strane credenze e aspirazioni di quelli che abitavano in modo tanto squallido nella casa in cantina fu trovata la cosa più straordinaria una pila di lingotti d'oro ricoperti negligentemente da un pezzo di tela e sui cui lati erano incisi gli stessi fantastici geroglifici che coprivano le pareti durante l'incursione i misteriosi orientali che sciamavano da ogni porta opposero solo una resistenza passiva e la polizia che non aveva trovato niente di significativo dovette lasciare tutto come era ma il comandante del distretto scrisse a Seidam un biglietto in cui gli consigliava di sorvegliare attentamente i suoi inquilini e protetti perché il pubblico ne era sempre più insospettito in giugno e con gran sensazione fu celebrato il matrimonio a mezzogiorno Flatbash era in festa e la strada che passava davanti alla chiesa olandese era gremita di auto in bandierate dall'ingresso alla careggiata vera e propria il corteo era continuo nessun evento locale sorpassò per classe e grandiosità le nozze Seidam-Garristen e il gruppo che accompagnò lo sposo e la sposa al molo di Cunhard rappresentava se non la crema assoluta una buona percentuale della gente che conta alle cinque del pomeriggio la coppia si congedò e il grosso vapore si staccò solennemente dal molo puntò la prua verso il mare aperto e con un formidabile squillo di sirena tiresse verso le meraviglie del vecchio mondo a sera doppiò il porto esterno e i passeggeri poterono ammirare le stelle sull'oceano incontaminato non è ben chiaro se fu prima udito il grido e poi avvistata l'imbarcazione straniera o viceversa ma probabilmente i due fatti avvennero contemporaneamente ed è inutile cercare di stabilire primati il grido veniva dalla cabina dei Seidam e il marinaio che buttò giù la porta avrebbe potuto fare un racconto spaventoso se non fosse impazzito completamente anzi le sue urla furono più forti di quelle della prima vittima e da quel momento corse come un forsennato da un capo all'altro della nave finché non lo presero e misero ai ferri il medico di bordo che entrò nella cabina e accese le luci un momento più tardi non impazzì ma non rivelò a nessuno ciò che aveva scoperto fino al momento in cui diverso tempo dopo scrisse una lettera a Malone presso la fattoria di Cepachette sarà stato un omicidio strangolamento ma le impronte sulla gola della signora Seidam non potevano essere né quelle del marito né di nessun'altra mano umana e la scritta rossa sulla parete che il dottore vide per un attimo e in seguito trascrisse a memoria non era altro che la paurosa evocazione in lettere caldee del nome Lilith non c'è bisogno di insistere su questi particolari che del resto si impressero nella mente in un attimo quanto a Seidam meglio sarebbe stato impedire a chiunque l'ingresso nella cabina fino a che non ci si fosse fatta un'idea più chiara di quello che stava accadendo comunque il dottore ha più volte assicurato a Malone che lui non vide esattamente la cosa il boccaporto era stato aperto un attimo prima che lui accendesse la luce e per una frazione di secondo fu velato da una specie di fosforescenza nella notte si udì un risolino diabolico ma nessuna figura ben individuata si profilò davanti ai suoi occhi il dottore indica come prova di ciò il fatto stesso che egli non si è uscito di senno intanto l'imbarcazione sconosciuta una vecchia carretta aveva tratto l'attenzione generale una scialuppa se ne staccò e un'orda di ceffi scuri condivise da marinai sciamarono sulla nave temporaneamente bloccata cercavano Saedam o il suo corpo sapevano del viaggio che avrebbe fatto e per quale ragione erano sicuri che sarebbe morto il ponte di comando era un pandemonio per un attimo fra l'allarme lanciato dal medico e le richieste dell'equipaggio sconosciuto nessuno riuscì a decidere che cosa fare finalmente il capo della ciurma straniera un arabo con un'orribile bocca da negro estrasse un foglio di carta sporco e spiegazzato e lo porse al comandante era firmato Robert Saedam e conteneva questo singolare messaggio in caso di repentino e inspiegabile incidente o di mia morte mi prego di consegnare il mio corpo all'atore della presente e ai suoi uomini senza fare domande la mia salvezza e forse la vostra dipendono dall'assoluto rispetto di questa volontà le spiegazioni potranno venire in seguito non abbandonatemi adesso Robert Saedam il comandante e il dottore si guardarono in faccia poi il secondo sussurrò qualcosa al primo alla fine annuirono e guidarono gli stranieri alla cabina di Saedam il dottore consigliò al comandante di distogliere lo sguardo aprì la porta e fece entrare i marinai dell'imbarcazione sconosciuta finché non ebbero preparato il loro macabro fardello e non si furono allontanati dopo un periodo che parve insolitamente lungo nessuno respirò agevolmente ma alla fine i nuovi venuti calarono il cadavere dalla murata e tornarono alla vecchia carretta senza scoprirlo il vapore riprese la sua rotta e il medico si recò nella cabina di Saedam con un assistente per svolgere le sue ultime mansioni ancora una volta il dottore fu costretto a far ricorso a reticenza e menzogne perché ciò che era accaduto aveva del mostruoso quando l'assistente gli chiese come mai avesse prelevato dal cadavere della signora fino all'ultima goccia di sangue egli non precisò di non aver fatto niente del genere per la stessa ragione non indicò i flaconi che mancavano dallo scaffale e non fece notare l'odore che saliva dal lavandino dove il contenuto era stato indubbiamente versato le tasche dei misteriosi marinai se marinai erano erano sembrate estremamente gonfie quando erano usciti dalla cabina due ore dopo il mondo apprese per radio tutto ciò che si sapeva dell'orribile tragedia la stessa sera di giugno senza aver appreso un sol particolare di quello che era avvenuto sull'oceano Malone ebbe un grande affare nei vicoli di Red Hook il quartiere sembrava permeato da una violenta agitazione come se un tantan di voci che correvano da una bocca all'altra avesse dato l'annuncio di un grave incidente gli abitanti si raggrupparono intorno alla chiesa adibita a sala da ballo e alle case di Parker Place con l'aria di gente in attesa tre bambini erano scomparsi norvecesi dagli occhi azzurri delle parti di Govanus e c'erano voci di un'imminente spedizione punitiva dei robusti vichinghi di quel settore per settimane Malone aveva fatto pressione sui colleghi perché si cercasse di far piazza pulita una volta per tutte ora spinte da ragioni che avevano a che fare con il buon senso più che con le ipotesi di un sognatore dublinesi le autorità si erano decise a sferrare un attacco decisivo l'inquietudine e i pericoli di quella sera erano stati fattore decisivo e verso mezzanotte una squadra formata da agenti che venivano da tre diverse stazioni piombò su Parker Place e i suoi dintorni furono sfondate le porte arrestati quelli che facevano resistenza le stanze rischiarate a lume di candela vennero evacuate da incredibili gruppi misti di stranieri che indossavano tuniche mitre e altri inspiegabili costumi nella confusione andarono perduti parecchi oggetti gettati all'ultimo momento in apertura di cui la polizia non immaginava l'esistenza gli odori sospetti furono coperti da improvvisi vapori di incenso ma dappertutto c'erano chiazze di sangue e Malonra brividì quando vide che da un tripode o altare si alzava ancora del fumo avrebbe voluto essere in più posti contemporaneamente ma quando un agente riferì che la chiesa in rovina era deserta Malon diede la precedenza al seminterrato di Seidam l'appartamento si disse doveva contenere qualche indizio sul culto di cui lo studioso era diventato il capo e l'accentratore fu quindi con un vivo senso di aspettativa che l'irlandese mise a soccuadro le stanze polverose avvertì l'odore di morte che vi alleggiava ed eseminò gli strani libri strumenti lingotti d'oro e bottiglie col tappo di vetro che erano sparpagliate tutte intorno una volta un gatto magro bianco e nero gli balzò fra i piedi facendolo inciampare e rovesciò un'ampolla piena a metà di liquido rosso lo shock non fu indifferente e ancora oggi Malon non è sicuro di quello che ha visto ma nei sogni rivede il gatto allontanarsi e gli appare deforme dotato di straordinarie facoltà finalmente arrivarono alla porta della cantina rigorosamente chiusa a chiave e cercarono qualcosa con cui abbatterla c'era uno sgabello a portata di mano e il robusto sedile sembrava più che sufficiente per i vecchi pannelli prima si aprì una spaccatura nel legno e poi la porta accedette come spinta dalla parte opposta soffiò una affolata di vento gelido che puzzava di segrete senza fondo e si sprigionò un risucchio che non apparteneva a questo mondo ma che avvinghiò il detective alle braccia e alle gambe e lo trascinò nell'apertura giù per spazi bui dove risuonavano lamenti e sussurri e ogni tanto una risata di scherno naturalmente si è trattato di un sogno tutti gli specialisti concordarono su questo fatto e Malone non può in alcun modo dimostrare il contrario anzi preferirebbe che fosse così perché in tal caso la vista degli squalli di edifici di mattoni e le facce scure degli stranieri non torturerebbero la sua anima ma in quel momento sembra tutto tremendamente reale e niente potrà cancellare dalla sua memoria le catacombe avvolte nelle tenebre le gigantesche arcate le figure informi che parevano uscite dall'inferno e che saggiravano maestose nel silenzio raggendo esseri divorati a metà e in qualche caso ancora vivi imploranti pietà o in preda risate isteriche odori di incenso e corruzione formavano un insieme ripugnante e il buio viveva disembianze nebulose informi e semi invisibili ma fornite di occhi da qualche parte onde melmose lambivano moli donice e una volta un suono di campanelle sottolineò festosamente l'insano cacchino di un essere nudo e fosforescente che nuotò a riva emersa dall'acqua e si arrampicò su un piedistallo d'oro dove rimase acquattato da ogni parte si radiavano gallerie di notte esterna da ogni parte si radiavano gallerie di notte eterna quel luogo era il centro di un contagio destinato a corrompere città e nazioni a spegnere il mondo in un'ibrida pestilenza lì si era infiltrato il male cosmico e lì alimentato da riti vietati aveva cominciato la marcia trionfale che avrebbe trasformato noi uomini in orrende anomalie e frutti della corruzione in qualcosa di troppo orripilante perché anche la tomba volesse accoglierci satana teneva in quel luogo la sua corte pagana e le membra contaminate di Lilith venivano lavate col sangue dei bambini incubi e succubi gridavano le lodi di Ecate mostrinati senza testa invocavano la magna mater capre danzavano al suono di flauti e satiri davano la caccia a fauni deformi su massi che avevano la forma di rospi enormi molok e astro non erano assenti perché nella quinta essenza della dannazione i vincoli della coscienza si allentavano e alla fantasia dell'uomo e alla fantasia dell'uomo si aprivano visioni di ogni regno d'orrore o dimensione vietata che il male potesse forgiare il mondo della natura era indifeso di fronte all'attacco che procedeva dai pozzi spalancati della notte e non c'era segno preghiera che potesse mettere in scacco quel tumulto la notte di Valpurga una chiave malefica usata da un evocatore di demoni aveva spalancato le porte dell'abisso a un tratto un raggio di luce materiale filtrò in mezzo ai fantasmi e Malone sentì uno sciabordio di remi fra le blasfemie di creature che avrebbero dovuto essere morte apparve una barca con una lanterna a prua attraccò a un anello di ferro che sporgeva dal molo e vomitò una serie di uomini scuri che reggevano un grosso fardello avvolto in un lenzuolo lo portarono al cospetto della creatura nuda e fosforescente accusciata sul piedistallo e quella rise sfiorando il lenzuolo con una zampa gli uomini strapparono il lenzuolo e sollevarono il cadavere di un uomo corpulento con i capelli bianchi e le guance coperti di stoppia l'essere fosforescente ridacchiò di nuovo e gli uomini estrassero dalle tasche alcune bottiglie di liquido rosso che versarono ai piedi della creatura poi gliele diedero perché ne bevesse all'improvviso da un corridoio sormontato da arcate che si perdeva in lontananza venne il boato di un organo blasfemo che riassumeva nei suoi toni bassi tutte le beffe dell'inferno in un attimo tutto ciò che viveva si galvanizzò e una processione rituale prese forma mentre l'orda di incubo strisciava verso la fonte della musica capre satiri fauni incubi succubi lemuri rospi deformi ed elementari senza nome creature dal muso di cane che urlavano nel buio e creature che avanzavano in silenzio davanti a tutti era l'entità fosforescente che ora scesa dal piedistallo camminava insolente e reggeva tra le braccia il cadavere dagli occhi vitrei del vecchio i uomini dalla pelle scura danzavano verso il fondo mentre la colonna si agitava ed eccitava con la passione di un baccanale ma l'ombar collò dopo aver fatto pochi passi e al colmo della confusione dubitò del posto che gli aspettasse in quello o in qualsiasi altro mondo si girò inciampò e scivolò sulla pietra viscida mentre l'organo demoniaco gli dava i brividi i fremiti e i cacchini della folle processione si facevano sempre più distanti si rendeva conto vagamente degli inni d'orrore e dei paurosi gracidi che risuonavano nel buio mentre di quando in quando una frase gli giungeva dalle nere arcate alla fine sentì ripetere lo spaventoso incantesimo greco che aveva letto sul pulpito della chiesa o amico e compagno della notte tu che ti rallegri dell'abbaiare dei cani qui un urlato spaventoso e degli spargimenti di sangue grida morbose corgoglie indescrivibili tu che cammini in mezzo alle ombre fra le tombe un sussurro forse un sibilo che brami sangue porti terrore ai mortali brevi grida acute da centinaia di gole gorgo ripetuto in risposta mormo ripetuto con estasi luna dalle mille facce gemiti e suono di flauti accetta con favore i nostri sacrifici mentre il canto si concludeva un urlo generale si levò dal corteo e una marea di suoni sibilanti coprì per un attimo le note dell'organo poi un gemito di molte gole una babele di invocazioni a metà urlate e a metà belate lilith grande lilith guarda lo sposo altre grida rumore di tafferugli e più chiari i passi cadenzati di qualcuno che correva i passi si avvicinavano e Maron si puntellò sul gomito per guardare la luminosità della catacomba diminuita negli ultimi tempi si era ravvivata di nuovo e nell'alone malsano apparve in corsa un essere che non avrebbe dovuto né correre né stare in piedi e neppure respirare il vecchio corpulento dagli occhi vitrei e le membre livide che non aveva più bisogno di supporto ma che era stato rianimato dalla stregoneria del rito appena concluso dietro di lui correva ridendo la creatura del piedistallo nuda e fosforescente per ultimi arrancavano gli uomini dalla pelle bruna e la folla di abominevoli intelligenze l'uomo morto guadagnava terreno sui suoi inseguitori e pareva diretto in un punto ben definito il piedistallo d'oro a cui tendeva con ogni sforzo dei muscoli corrotti e che doveva possedere una straordinaria importanza magica ancora un attimo e aveva raggiunto la meta mentre la folla degli inseguitori arrancava con tutta la velocità possibile ma arrivarono troppo tardi perché con uno slancio che gli lacerò i tendini e che lo fece ruzzolare sul pavimento in uno stato d'orrenda dissoluzione il cadavere del vecchio Robert Seidem raggiunse il piedistallo e il suo trionfo lo sforzo era stato tremendo e ne aveva completamente esaurito le energie ora mentre il morto si putrefaceva sul pavimento il piedistallo che egli aveva spinto con le ultime forze vacillò cadde dalla base donice e si inabissò nelle acque sottostanti sprigionando una scintilla d'oro prima di scomparire negli insondabili golfi del tartaro in quell'istante la tremenda scena si dissolse davanti agli occhi di Malone ed egli svenne mentre gli risuonava alle orecchie un fragore di tuono che sembrò cancellare per sempre l'universo del male il sogno di Malone verificatosi prima che egli venisse a sapere della morte di Seidam nell'oceano fu stranamente corroborato da alcuni aspetti reali del caso anche se non c'è alcuna ragione per cui altri debbano crederci e tra vecchie case in Parker Place senza dubbio malsane e pericolanti da tempo crollarono all'improvviso mentre metà dei poliziotti che avevano partecipato all'incursione e la maggior parte dei prigionieri si trovavano ancora all'interno molti furono i morti e solo nel seminterrato in cantina qualcuno riuscì a salvarsi fra questi Malone abbastanza fortunato da trovarsi sotto la casa di Robert Seidam nessuno può negare che egli si trovasse effettivamente in una galleria sotterranea dove lo avvistarono in stato di incoscienza sull'orlo di uno specchio d'acqua nero come la notte a poca distanza da un'orribile poltiglia di carne decomposta e ossa che attraverso l'analisi dentale fu possibile identificare per il corpo di Seidam il caso era chiaro perché era quello il punto in cui sboccava il canale seguito dai contrabbandieri di uomini i marinai che avevano preteso le spoglie dell'olandese a bordo della nave lo avevano riportato a casa tuttavia nessuno di essi fu trovato o identificato e il medico della nave non è ancora oggi soddisfatto delle semplici spiegazioni della polizia Seidam evidentemente era capo di una vasta rete di immigrazione clandestina perché il canale che passava sotto casa sua non era che uno dei tanti della zona una galleria congiungeva la villa dell'olandese a un sotterraneo che si spalancava sotto la chiesa adibita ad Einz Hall sotterraneo a cui si poteva accedere solo da uno stretto passaggio segreto nella parte settentrionale e in cui furono scoperte cose orribili l'organo dalle note basse e gracchianti era lì come pure una cappella dal soffitto a volta panche di legno e un altare stranamente ornato lungo le pareti si aprivano piccole celle in ben diciassette delle quali furono trovati prigionieri solitari incatenati e in uno stato di completa aberrazione mentale fra questi sventurati c'erano quattro madri con bambini dall'aspetto deforme e allarmante i bambini morirono non appena esposti alla luce fatto che i medici giudicarono misericordioso solo Malon fra quanti li esaminarono ricordò la cupa domanda che si era posta il vecchio del rio prima che i canali fossero riempiti si procedette a dragarli accuratamente e ossa frantumate di ogni genere vennero alla luce era chiaro che anche l'ondata di rapimenti faceva capo alla banda di Saidam ma solo due fermati poterono essere ufficialmente incriminati per quel reato si trovavano ora in prigione perché non fu possibile dimostrare che avessero preso parte agli omicidi il piedistallo d'oro scolpito o trono che Malon insiste nell'indicare come uno degli oggetti principali del rito occulto non è mai stato ritrovato va detto tuttavia che sotto la casa di Saidam c'è un punto in cui il canale diventa troppo profondo per poterlo dragare efficacemente prima che fossero gettate le fondamenta delle nuove case il canale stesso è stato ostruito ma spesso Malon si domanda che cosa ci sia sotto la polizia soddisfatta di aver debellato una pericolosa banda di maniaci e di contrabbandiare i duomini consegnò ai kurdi che non era stato possibile condannare alle autorità federali e queste prima di espellerli accertarono che appartenevano effettivamente al clan Yezidi gli adoratori del demonio l'imbarcazione sconosciuta che aveva avvicinato il vapore dopo la morte di Saidam rimane un mistero anche se gli investigatori anche se gli investigatori più cinici dichiarano di essere pronti a combattere in qualsiasi momento i suoi traffici illeciti specialmente il contrabbando di Rum in questo modo di guardare ai fatti Malon vede una tragica distrettezza mentale perché la maggior parte di quegli investigatori non si chiede ragione dei mille particolari rimasti oscuri né del mistero che circonda l'intero caso ma non c'è da essere più teneri con i giornali che in tutta la faccenda hanno visto soltanto il lato morboso e sensazionale e hanno sguazzato nella storia di un culto sadico minore che invece approfondendo le ricerche si sarebbe potuto rilevare come una mostruosità scaturita dal cuore dell'universo per il momento Malon si è contenta di restare a Sherpachet e di non parlare ha bisogno di calmare i suoi nervi e prega che col tempo la sua terribile esperienza passi dal piano della realtà e dei ricordi a quello pittoresco e quasi mitico di un sogno lontano Robert Seidam riposa con sua moglie nel cimitero di Greenwood le ossa recuperate in modo così drammatico non hanno avuto funerali e i parenti sono lieti del rapido oblio in cui il caso è precipitato col passare dei giorni il legame fra il vecchio studioso e gli errori di Reed Hook non è mai stato legalmente dimostrato perché la sua morte ha impedito lo svolgersi del processo cui altrimenti avrebbe senz'altro dovuto sottostare della sua fine non si parla spesso e i Seidam si augurano che i posteri possano ricordarlo come un gentile recluso che si limitava a pasticciare con innocue credenze folcloristiche o magiche quanto a Reed Hook è sempre lo stesso Seidam è andato e venuto il terrore ha sferrato il suo attacco e si è dissolto ma gli spiriti malefici dell'oscurantismo e della miseria continuano ad alezzare fra i degenerati che vivono nelle vecchie case di mattoni mentre le bande dei teppisti si aggirano senza meta tra finestre dove appaiono e scompaiono misteriosamente strane luci e facce patibolari l'orrore che emerge dall'antichità è unidra a mille teste e i culti delle tenebre affondano le loro radici in arcani più profondi del pozzo di Democrito l'anima della bestia è trionfante onnipresente e le schiere di giovinastri di Reed Hook vaiolosi e con la cataratta sull'occhio continuano a cantare urlare e scagliare le loro maledizioni mentre vanno alla deriva da un abisso all'altro senza sapere dove né perché ma spinti dalle cieche leggi della biologia che non capiranno mai come un tempo a Reed Hook entra più gente di quanta ne esca e circolano voci di nuovi canali che corrono nel sottosuolo per consentire il traffico di liquori e di altre cose meno salutari la chiesa adibita a sala da ballo è ora definitivamente una sala da ballo e di notte strane facce appaiono alle finestre un poliziotto ha detto di essere convinto che il canale ostruito sia stato aperto di nuovo e per ragioni non facilmente spiegabili chi siamo noi per combattere veleni più antichi della storia dell'uomo in Asia figure scimmies che danzano davanti all'orrore e la putredine si annida sicura pronta a espandersi in mezzo alle vecchie case di mattoni dove le ombre glielo consentono ma lo non trema in vano perché solo l'altro giorno un poliziotto ha sentito una vecchia dalla pelle bruna istruire un bambino nel patois che si bisbiglia da quelle parti all'ombra di un cortile e le parole ripetute più volte dalla megera gli sono parse molto strane o amico compagno della notte tu che ti allegri dell'abbaiare dei cani e degli spargimenti di sangue tu che cammini in mezzo alle ombre fra le tombe che brami sangue e porti terrore ai mortali gorgo mormo luna dalle mille facce accetta con favore i nostri sacrifici e porti terrore e porti terrore i nostri sacrifici e porti terrore e porti terrore